Perfetto Quello che cos'era? Era la pesa? Sì, questa qui è la pesata, sai? Ecco Devi cominciare Quindi ogni volta che passate di qua Dovete passare prima dalla pesa Sì, dai digiti la cava 173, seconda da dove vieni 160, cento da dove vieni Loro dopo di lì risalgono Devi pagare Questo è il lavaggio? Sì Prima c'era il lavaggio prima della strada dei Marmi? Era dalla parte di qua da Torano Era sempre rotto, sempre Quindi praticamente tutta la polvere poi arrivava in città Sì, veniva qua Questa è la galleria Questa è la galleria Così la vedi E qua ci possono passare solo i camion? Sì Poi se uno ci vuole passare Ci sono le telecamere Poi il camion non la botta a cazzo Che qualcuno l'ha presa Anche i cooperatori del Marmo Che sono le prime volte che sono passati E la chieda fa Sono passato, sono le dici 80 euro, 80 qualcosa Per cinque anni non ci possono passare Eh sì, così anche Adesso sono i camion Poi dopo Non passano anche le macchine Però Io lascerei così